Il nuovo fuoco a Galatina sono le 18.30 del 19 luglio 2012 e qui di nuovo è stato messo fuoco, qui siamo nei pressi della via di Lecce in prossimità del supermercato Libro. E ancora non è intervenuto nessuno, pare che stia bruciando da almeno mezz'ora qui. Questo fumo nero è tutta diossina che si propaga verso la città, quasi sicuramente. Grazie. 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 Grazie.